Allora ciao a tutti, all'occasione di essere nominato uno dei nuovi amministratori di questa pagina voglio fare questo video per salutare a tutti i membri come amministratore nuovo cerco di aiutarvi il più possibile ad imparare questa lingua bellissima se avete delle domande riguardo l'Italia o la sua lingua scrivetele qui sotto e farò un video rispondendo tutte allora aspetto i vostri commenti ciao, ci vediamo nel prossimo video